Signora, vuole raccontarci come mai ha deciso di dare il 5x1000 a Cittadinanza Attiva? Perché ho avuto un'assistenza veramente formidabile. Ho avuto dei problemi con la Telecom e per tanti mesi non sono riuscita a risolverli perché fatturavano in maniera abnorme, ma non giustificavano queste bollette che erano veramente molto, molto esose. Dopo tanto tempo che mandavo raccomandate, facevo reclami e call center senza ricevere nessuna risposta ho deciso di rivolgermi a Cittadinanza Attiva. Ha chiamato il PIT? Sì, e Cittadinanza Attiva è stata di una professionalità, puntualità e precisione veramente sorprendente in un paese come il nostro dove associazioni così professionali e senza spendere niente, ma hanno risolto il problema in 48 ore. La linea è stata ripristinata, i bollettini pagati ingiustamente sono stati rimborsati e ho ottenuto addirittura un indenizio. Ho avuto un danno maggiore, però mi sono accontentata dell'indenizio e anche della soluzione dei problemi veramente in maniera celerissima. Quindi, visto che sono rimasta molto soddisfatta e perché non mi hanno chiesto nessun contributo nessuna spesa, niente per tutto quello che hanno fatto, il minimo che potevo fare è dargli 5 per utile.